Benvenuti in Benrus. Benrus è stato un marchio americano di orologi fondato nel 1921 dai tre fratelli Oscar, Benjamin e Ralph Lazarus. La sede originaria dell'azienda si trovava a Manhattan, ma gran parte della produzione veniva effettuata in Svizzera. Nel corso degli anni, Benrus ha prodotto molti orologi diventati oggi oggetti di collezione, come l'Embrance Ball, un orologio braccialetto per donne, il Citation, ispirato al famoso cavallo da corsa, e il Saltarello di Allorama, apprezzato per la sua originalità. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Benrus ottenne contratti con le aziende belliche statunitensi per fornire timer per ordigni esplosivi, così come orologi per militari e civili. Questo periodo di grande crescita portò l'azienda a diventare la terza più grande produttrice di orologi negli Stati Uniti, dietro a Bulova e Delgin. Benrus ha ottenuto vari brevetti per gli orologi nel settore automobilistico, e ha prodotto molti orologi famosi, come il Dick Tracy e alcuni orologi Disney. Inoltre, è stata una delle prime aziende a realizzare un orologio completamente impermeabile. Altri marchi venduti sotto il nome Benrus includono Sovraine e Belforte. Alla fine degli anni 50, Benjamin e Ralf erano prossimi alla pensione, e Oscar decise di vendere l'azienda. Inizialmente la Benrus fu venduta nel 1961 alla Time Corporation, poi venne rivenduta nel 67 alla Victor Chiam Corporation, e infine nel 1977 alla MZ Berger & Co. Benrus cessò la produzione e la vendita di orologi nel 1995. E oggi la compagnia esiste come azienda di abbigliamento e accessori.